Oggi sono molto lieta di essere qui perché il mondo del lavoro non è soltanto oggetto di riflessione del settore sindacale ma anche della politica e del governo, tant'è che abbiamo dedicato proprio il primo maggio al decreto che ha riguardato il lavoro e nelle sue tante sfaccettature dal taglio del cuneo fiscale all'accesso nel mondo del lavoro, al contrasto, alla povertà, al soccorso alle famiglie e alle persone più deboli, alla formazione Quindi un decreto a tutto campo che dice quale è l'importanza per questo governo e oggi la presenza di tanti ministri lo conferma Ministro, lei sta incontrando le parti sociali sulle riforme istituzionali, cosa sta emergendo a questo punto c'è? Beh, ho fatto un giro a tutto campo ed è emerso innanzitutto una convergenza sul concetto di stabilità cioè della necessità che ci sia un governo di lunga durata, di respiro politico istituzionale lungo perché le riforme si possono fare se c'è un quadro normativo stabile e questo è un primo dato che unisce tutti, una sorta di filo conduttore Per quello che riguarda l'elezione diretta invece ci sono alcuni come Consal che hanno visto con favore un'elezione diretta altri che hanno dimostrato aperture, quindi sono molto soddisfatta Un'ultima domanda dopo la scomparcia di Cilio Berlusconi, come sta Forza Italia? Ah direi che sta molto bene, ma non lo dico io, lo dice il tesseramento che c'è stato in questi due giorni sabato e domenica che ha visto una partecipazione enorme io sono il coordinatore di una regione molto piccola come la Basilicata abbiamo registrato mille e sono tante in un sabato e domenica calda mille iscrizioni e poi il risultato del Molise che vede una Forza Italia a doppia cifra cioè nel senso che siamo arrivati quasi al 12 e quindi è un risultato straordinario che significa una volontà anche dei cittadini di proseguire quell'azione iniziata da un grande uomo, da un grande statista come Silvio Berlusconi cioè di proseguire avendo metabolizzato tutti quei valori che lui ha dato, quella svolta che ha dato alla politica dove noi rappresentiamo una forza equilibrata e necessaria appunto anche e che si è dimostrata necessaria anche nella coalizione di questo governo grazie